Adesso però vorrei che si passasse al vivo, non solo a una spiegazione ma a una presentazione anche della complessità di questo lavoro da parte del suo curatore, che è il professor della Valle, che è il presidente dell'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, Giorgio Agosti. Non è facile perché, come avete potuto sentire, le modalità con cui si può avvicinare questo tema sono molte. Diciamo così che ogni regione attraverso i suoi rappresentanti ci ha dato un modo, una modalità di vedere la questione e non è facile trovare il filo conduttore che tiene tutto insieme. Anche se io sono d'accordo, con quanto ha detto il presidente Saita, che la dimensione regionale per questo paese è fondamentale. L'Italia, nella sua storia, è un paese che si è costruito attraverso i particolarismi, le differenze. Solo alla fine del percorso c'è stata una spinta unitaria, che è quella che noi valorizziamo con questa giornata, ma che nello stesso tempo non può dimenticare quello che è la storia profonda di questo paese, che è fatto di cento città, di diversissime esperienze, di culture straordinarie, ma anche difficili da tenere insieme. La difficoltà di governare questo paese nasce da questi elementi. Cioè è la nostra storia che ci pesa addosso e in qualche modo rende non facile trovare le soluzioni e le scelte necessarie, anche se vanno cercate. Giustamente, veniva detto dalla vicepresidente Fedeli, bisogna cercare continuamente gli elementi di unità che possono fare esprimere le potenzialità che questo paese ha, senza negare le differenze, ma valorizzandole. Facile da dire, difficilissimo da farsi. Soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando, in cui gli strumenti politici che solitamente avevamo utilizzati per trovare questi filoni unitari non ci sono più o si sono consumati e non sono stati sostituiti da qualcosa di altrettanto valido e forte. Questo è il problema che abbiamo di fronte e dunque è anche il problema con cui ci dobbiamo misurare ragionando delle cose di cui abbiamo parlato questa mattina. In fin dei conti, di cosa parliamo quando parliamo di questo rapporto tra meridionali e resistenza? Stiamo parlando non solo del dato evidente, come è venuto fuori dalle verifiche che abbiamo fatto, verifiche numeriche, per cui un grande numero di giovani meridionali è entrato nelle formazioni partigiane e ha lasciato il suo segno dentro queste formazioni. Non solo questo dato è rilevante, ma è rilevante il fatto che l'hanno fatto dentro un passaggio straordinario della storia complessiva del paese. Cioè nel 43-45 l'Italia attraverso la più grave crisi, attraverso figurativamente rappresentata dallo sfacelo dell'esercito, lo sfacelo dell'esercito all'8 settembre è la fine dello Stato italiano. Significa che quell'organismo che era stato costruito dal 1861 in poi era arrivato a un dunque e la classe dirigente di allora non avevano saputo salvaguardare questo passaggio e quindi anche l'idea di Stato che gli stava dietro. Noi quindi entriamo dentro una crisi che è crisi di Stato, cioè di organizzazione, e dall'altra parte crisi dal punto di vista dell'identità, del ciò che siamo, del ciò che facciamo. E' qui che sta l'interesse per le cose di cui ci stiamo occupando, perché stiamo riflettendo su una crisi che è andata in profondità nel nostro paese, che tutte le volte in cui negli anni a venire il paese si è trovato in difficoltà, e questi anni sono anni di difficoltà, ripeto, diventa interessante poter fare riferimento a quel passaggio, perché là si dettero le condizioni e perché si impostasse un discorso nuovo e diverso. Quando noi diciamo la Costituzione è nata dalla resistenza, diciamo una frase ripetuta spesso, che si è quasi indebolita poi nel corso del tempo, e da rivalorizzare questo passaggio, vuol dire che in quel passaggio lì si sono poste le basi fondamentali, perché un paese che aveva conosciuto la dittatura, che aveva attraversato la guerra, con i disastri che sono stati ricordati, e che quindi era arrivato al limite delle proprie capacità, ricomincia a ricostruire, e il percorso resistenziale mette i paletti fondamentali perché tutto questo possa reggere. È durato 70 anni questo percorso? Allora adesso è il caso di ripensarci un momento, nel momento in cui siamo in difficoltà, come tutti quanti hanno riconosciuto, questo paese è un problema proprio di, non dico tanto di risorse, anche di risorse, ma è un paese, è un problema di identità, del che cosa fare e per che cosa, non vediamo il progetto dietro le tante parole che si dicono. E questo è il punto della questione, è lo sbandamento delle classi dirigenti, perché non hanno un progetto comune rispetto al quale organizzare il proprio pensiero, il proprio modo di operare e il proprio modo di agire. E allora dove non andiamo a ricercare queste basi per fondare il progetto? Dobbiamo andare per forza nel momento in cui queste cose sono state fondate. E dunque ci è sembrato una cosa importante nel momento in cui abbiamo fatto poco tempo fa una riflessione profonda, celebrando il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, e beh, ci è sembrato importante continuare quel discorso e collocare questa esperienza del 43-45 dentro la storia d'Italia, non un pezzo separato, non un pezzo eccezionale, ma qualcosa che sta dentro la storia, è parte della storia. Di qui l'idea di ragionare su questo aspetto del rapporto nord-sud, perché questo è un problema di carattere nazionale, non è questione del rapporto tra le regioni, ma è una questione di carattere nazionale. Cioè, se riusciamo a capire i meccanismi che si sono costruiti allora, capiamo meglio chi siamo, che cosa possiamo fare, che prospettive ci diamo. Questo per dirvi come si è cercato di pensare il tema del ragionamento che vogliamo costruire, perché vi dico subito che del libro che ho curato, fatto con gli istituti storici della resistenza piemontesi, e quindi, ecco, in questo libro la parte più importante è l'elenco dei partigiani che trovate alla fine, perché lì sono centinaia, migliaia, nomi e cognomi e nomi di battaglia in cui si descrive un pezzo dell'Italia su cui sarebbe necessario ritornare, lavorare, ripensare, riflettere ed estendere la conoscenza. Quello è un punto concreto di partenza, attenzione che può essere accresciuto, non è definitivo, nel movimento di resistenza e soprattutto negli anni del 43-45 non c'è nulla di definitivo, tutto cambia, tutto, e quindi già stamattina ho fatto delle scoperte e sono state raccontate proprio da questo palco che qui non compaiono assolutamente, quindi non aspettatevi nella prima parte un quadro definito e completo. questa è una proposta di ricerca, cioè la proposta di avvio di un percorso da fare. E le parole che ho sentito dai rappresentanti regionali in questa sede mi fanno pensare bene sulla possibilità vera di fare una ricerca in cui chi si occupa di queste cose, come me e come tanti altri ricercatori qui in Piemonte, possono lavorare con i ricercatori delle regioni del sud, confrontarsi e costruire un percorso che produca nel tempo esiti che possono essere comparati, discussi e valutati insieme. Questo è il progetto. Ovviamente il progetto, come dire, deve avere gambe per camminare. Una ricerca sul campo costa. Noi abbiamo fatto questo grosso lavoro per quanto riguarda la raccolta dei nomi di cui vi parlavo prima, un database, ma costruire un database su cui ci si possa fidare e si possa lavorare non è cosa facile, anzi è cosa che costa perché ci vogliono persone che si impegnino su questo terreno. Ma credo che ci sia prima di tutto bisogno di una volontà per andare in questa direzione. Mi sembra che la vicepresidente Fedeli abbia colto molto bene la questione. Io spero che la spinta che viene da queste nostre riflessioni possa far crescere qualche cosa di importante perché c'è un primo passaggio che è quello giustamente già ricordato, che è quello della formazione. Se noi non insegniamo queste cose che ci sembrano fondamentali, che sono fondamentali, ma se non le trasmettiamo con strumenti adeguati, non riusciremo mai a fare un discorso di crescita e di sviluppo. Dunque, formazione vuol dire scuola e università. E allora a questo Paese si deve fare qualche domanda su queste questioni. Cioè, come pensiamo di guardare al futuro se non costruiamo con i nostri ragazzi questo futuro, se non ce lo immaginiamo, se non diamo futuro alla scuola e all'università? Purtroppo, in questi anni, i colpi assegnati a scuola e all'università sono stati molto pesanti. L'altro discorso è, appunto, coinvolgere le istituzioni, perché ci sono, ed è una straordinaria ricchezza nel nostro Paese, le associazioni che si occupano delle tematiche resistenziali della Seconda Guerra, della Costituzione, eccetera, 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 eccetera. Sono tante e sono una grande ricchezza. Oggi ha parlato il Presidente dell'Ampio Provinciale e vi ha fatto subito capire che il discorso che stava facendo era legato, sì, a questo discorso meridionale, ma subito il suo pensiero è andato su altri passaggi di questa nostra storia, su come poi i meridionali sono entrati dentro la vita di questa città e di questo Paese. Quindi basta tirare un filo e poi si entra dentro meccanismi più complessi. Dovrei fare un'analisi più di dettaglio, ma credo che l'ora sia andata abbastanza avanti. Ci tenevo a segnalarvi, come dire, l'idea di fondo che sta dietro a queste cose. Poi, certo, ci sono in ogni capitolo che abbiamo cercato di descrivere questioni che andrebbero approfondite, sviluppate, ma credo che prima dobbiate avere in mano questo libro e ragioneremo in altre situazioni rispetto a queste questioni. Quello che voglio dire in conclusione è sostanzialmente che noi abbiamo cercato di, dico noi intendendo gli istituti piemontesi, di articolare su diversi piani le cose possibili da fare. Alcune cose sono state fatte, fatte anche molto bene, ci sono istituti meridionali che hanno lavorato molto bene su queste questioni. Si tratta di, a questo punto, di fare sostanzialmente due percorsi. Uno, di riconoscere il già fatto. Due, avere un'idea sul come comporlo insieme. Quindi questa idea di insieme deve essere l'idea che ci porterà, spero che ci possa portare, a incontrarci in altre occasioni e a dare a voi un risultato significativo. Grazie molte. Grazie. Grazie.